Mary J's ASMR Ciao a tutti ragazze, bentornate sul mio canale ecco un momento rilassante, un momento rilassante tutto per voi io voglio farti dormire e questo è il mio scopo e ti ricordo se non sei ancora iscritto al mio canale di iscriverti e di lasciarmi un bel like ed un commento sotto i miei video così facendo mi sosterrai gratuitamente grazie io voglio farti dormire immagina di essere solo tu ed io e l'ASMR che fa da sottofondo come vedi pensa che insieme a me dormirai meglio ti sentirai più rilassato immagina di non avere nessun altro attorno ma solo tu un paio di auricolari un paio di auricolari e l'ASMR nelle orecchie e quella sensazione strastra 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 strastr soddisfacente che induce al sonno immediato il 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 di 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 RELAVED 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 Ah ah Ticco 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 Tickle, tickle, tickle Tickle, tickle, tickle Tickle, tickle, tickle Ticca, ticca, ticca Ticca, ticca, ticca Ticca, ticca, ticca Ticca, ticca Ticca, ticca, ticca Ticca, ticca Ticca, ticca Ticca, ticca, ticca Ticca, ticca 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 ok e tutto ciò con Celia come sono migliore mi dirai poi e 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 adoro ragazzi tutto ciò prima è tutto morto e 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 con le cuffie nelle orecchie mi auguro che tu mi abbia sentita meglio e e spero che questi trinkers ti abbiano fatto provare dei pretty dei tingles pretty 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 Sì, sì. Buonanotte